ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di rockpolitik parleremo della seconda data di coronavirus che sta cambiando nuovamente le nostre vite ecco il nuovo dpcm sta portando con sé dietro di sé un nuovo terrorismo psicologico che sta influenzando la nostra economia sia a livello locale che a livello nazionale ecco con questo nuovo dpcm abbiamo delle nuove restrizioni che stanno influenzando soprattutto il commercio locale in quanto ovviamente la paura di un nuovo contagio di questa nuova pandemia che che avrà delle restrizioni sicuramente come quelle dell'anno scorso magari riusciremo a evitare il lockdown però già voci dicono che a dicembre gennaio ritorneremo di nuovo a stare nelle nostre case tranquilli e a riposarci di nuovo però come siamo arrivati di nuovo a questa situazione ecco non dovevamo arrivarci perché dovevamo essere già preparati è mancata secondo me da parte del governo delle regioni una pianificazione durante i mesi estivi durante i mesi estivi i cittadini sia cannavesani italiani sono partiti sono andati in ferie in tutti i luoghi d'italia più affollati e più ricercati questo giustamente perché il turismo è ormai è molto specifico in italia ci sono molte zone che sono più gettonate altre meno gettonate ecco questo qua è stato in primis uno degli errori del governo e delle regioni che non hanno incentivato la diversificazione del turismo durante questa estate un altro problema è stato che le regioni non sono riusciti non sono riuscite ad organizzare nuovi letti per la terapia intensiva si stimava che il dipartimento della sanità di sanità italiana aveva stimato un tot di letti per la terapia intensiva che erano intorno ai 7.000 8.000 siamo molto lontani da quel numero siamo quasi a 5.000 6.000 e questo è stato un grave errore secondo me perché adesso ci troveremo di nuovo in una grave difficoltà soprattutto degli ospedali delle strutture sanitarie un altro errore sono i tamponi ovviamente ce ne sono ne facciamo molti ma molti di più rispetto a un anno fa a marzo però la media è molto più bassa a quella della francia e dell'inghilterra che stanno trovando molti più contagiati rispetto a noi ovviamente ci sono due linee di pensiero ossia quella che i tamponi devono essere fatti in maniera specifica quindi c'è un pensiero che dice che i tamponi che si fanno in italia che facciamo noi sono molto più specifici per questo e bastano di meno però i contagi salgono e in maniera molto elevata di giorno in giorno il problema un altro dei problemi è anche chi fa rispettare queste regole perché con il nuovo di bcm abbiamo delle nuove regole da rispettare rispettando queste regole potremmo fare molte cose ovviamente dobbiamo rinunciare ad alcune cose come andare a ballare andare a fare calcetto però si possono fare ancora molte cose nella totale sicurezza e con un contagio molto basso con un rischio di contagio molto basso però manca una figura istituzionale in grado di far rispettare queste regole perché questa misura di coercizione che il governo ha introdotto ossia multe dai 400.000 euro non è un buon modo per far rispettare le regole è solo un sistema di terrore e di paura che può essere efficace o non efficace ma in questo momento abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia rispettare queste regole per un bene comune che ci faccia capire queste regole se no non andremo mai avanti grazie all'attenzione ci vediamo la prossima puntata